una torino verde che va a nitro di chi è non lo so dom io sono solo l'intermediario giuro non sono io aspetta aspetta non so un cazzo giuro io tengo le macchine per braga solo questo il massimo che posso fare è farti entrare nella corsa quale corsa cazzo dai fermati forza tiralo su dom tiralo su si darete a lui hai intenzione di arrestarmi o con oh cazzo oh cazzo tazzito letty era anche mia amica tu non eri amico di nessuno potete parlarne dopo tirami su lavoravo per un certo braga e qualcosa si è inceppato li sbatto tutti dentro andiamo fammi fare il mio lavoro dom lo ammazzo questo braga e chiunque si azzarti a mettersi in mezzo cazzo basta non mi lasciare adesso basta adesso basta hai chiuso ho detto basta stasiac va di là a darti una pulita cosa mi ha colpito lui per primo tu non siamo dei boy scout dai muoviti mi sporchi di sangue il pavimento oh connor conosci la differenza tra un poliziotto e un criminale qual è basta una decisione sbagliata vedi di rigare dritto figliolo buon divertimento va a sederti buone notizie abbiamo una soffiata il numero due di braga era monca dovui buone notizie buone notizie buone notizie buone notizie